bot 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 come funzionano i super robotini che ci fanno fare trading e che si sostituiscono che prendono decisione al posto nostro si assumono responsabilità bene ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video oggi ritorniamo a parlare dei botti trading che cosa sono realmente una infarinatura perché molti di voi già li conoscono soprattutto da un punto di vista di concezione perché ancora sono veramente molto incompresi questi botti trading qual è il loro vero utilizzo come dovete dovete utilizzarli e come utilizzare i bot che le strategie che gli exchange ci mettono a disposizione per ottenere realmente del profitto oggi facciamo quindi un briefing su quelli che sono i botti in generale ma anche soprattutto sul famoso grid bot ragazzi lo scorso anno io ho fatto un video relativo al grid bot di come funzionava ho messo anche un bot a griglia su un exchange ragazzi poi farò vedere anche quello che è il risultato di quel bot a griglia che è stato pessimo ma guardate un po cioè non avevo assolutamente dubbi che fosse così perché i grid bot ragazzi vanno maneggiati con cura molti di voi però non sanno che oltre al classico grid bot che è presente sugli exchange noi possiamo anche creare delle strategie simili al grid bot che siano trend following e quindi non contrarie al mercato e che guardate un po magari possono funzionare molto meglio proprio sui mercati delle cripto valute li vediamo in questo video va bene ma prima di andare avanti vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciarmi un pollicione ragazzi per questo è un video tecnico quindi un video tutorial per capire come impostare una strategia a griglia trend following quindi completamente diversa da quello che avete sentito finora che può essere strautile proprio sui mercati delle cripto valute e quindi pollicione in su e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e per utilizzare questa strategia per fare gli esempi ragazzi andremo a ragionare sull'exchange bit get che è un exchange adattissimo proprio per fare queste automazioni in quanto possiede una serie di meccanismi degli ordini che ci consentono di creare questo tipo di strategia la metteremo proprio in atto in questo momento su bitcoin facendovi un esempio chiaro anche per farvi capire tutte le problematiche che potrebbe avere questa strategia ma parliamo anche delle strategie grid bot perché sia bit get come anche tanti altri exchange ragazzi ha in ogni caso proprio anche le impostazioni vedete del grid bot sullo spot trading per esempio già vi dico che questo tipo di bot in sostanza ero andato anche a guardarlo se si poteva utilizzare in alcuni modi va bene solo per strategie contrarian che adesso vediamo che cosa sono e quali sono i pro e contro di queste strategie dove dovete utilizzarli perché ragazzi andare utilizzare un bot di trading senza sapere che cosa state facendo non fate niente cioè non ci guadagnate un euro assolutamente e anzi un dollaro in questo caso oppure un bitcoin quindi dovete capire che cosa c'è dietro capire la strategia e quelli che sono i nodi al pettine da sciogliere e poi solo dopo potete impostare la vostra personale adatta alla vostra operatività va bene allora bit get ragazzi è un exchange che sto utilizzando negli ultimi due mesi vi lascio il link in descrizione anche perché c'è una super promo con 20 dollari vi regalano 20 dollari i primi 50 iscritti ragazzi voi depositate 200 dollari e 20 dollari ve li ridanno indietro e tra l'altro sono prelevabili considerate anche questo che è interessante ma io vi dico usateli per provare l'exchange tanto non credo che 20 dollari vi cambiano la vita e poi avete lo sconto dal mio link in rap mi date anche una mano lo sconto del 10% a vita sulle fee che non è mai male ragazzi ok allora iniziamo a parlare della questione grid bot quello standard quello che trovate anche su bit get che trovate anche su tanti altri exchange allora il grid bot lo trovate qui ragazzi nella struttura spot grid spot grid trading e poi qui vedete che ci sono due tipologie di strategie impostabili normal grid bot e reverse grid io quando ho visto le verse mi si sono illuminati gli occhi ho detto dai ci danno la possibilità di fare proprio quello che volevo spiegare non è così allora semplicemente è un normal grid è legato al discorso che va a utilizzare diciamo gli usdt e invece il reverse utilizza bitcoin quindi non è assolutamente quello che immaginavo allora come funzionano i bot a griglia che trovate in pratica su tutti gli exchange voi andate a creare una griglia tra le altre cose vi fanno fare anche una griglia automatizzata che vi dà un esito vedete 232 per cento è la backtest dei livelli della griglia e dei delle distanze quindi tutti i parametri per impostare la griglia che ci sono ragazzi e sono automatizzati e sono fatti in base ad un backtest automatico allora io lo so che sembra bello vedere questi numeri vi assicuro che non servono a niente in questo caso perché il backtest fatto sui dati passati teoricamente ragazzi non è quello sui dati futuri quindi vi dice che questo tipo di strategia nel passato avrebbe performato così ma il problema è la domanda la risposta alla domanda è questa stessa strategia questi stessi parametri nel futuro funzioneranno assolutamente no e se funzioneranno funzioneranno per un caso specifico quindi intanto iniziamo a smontare l'idea che un botta griglia automatizzato con un solo bottone vi possa dare un esito positivo ragazzi in qualsiasi condizione di mercato lo so in alcune condizioni di mercato può essere utile utilizzare botta griglia ma come sempre se non sapete quello che state facendo non sapete perché a un certo punto non funziona quindi non tempo speso bene e poi anche l'utilizzo di dati automatizzate attraverso un backtest è una specie di istruzione computerizzata che plasma la vostra strategia ai dati passati e non ai dati futuri a voi vi interessa cercare di capire quello che può succedere nel futuro non certamente nel passato quindi questi botte ragazzi con le impostazioni automatiche io ve li sconsiglio perché non funzionano quasi ma andiamo a vedere invece quelli manuali come si possono andare ad impostare e il solito botte ragazzi noi impostiamo una lower price cioè una griglia al prezzo più basso è una griglia prezzo più alto il numero di griglie in cui vogliamo dividere per esempio in questo caso c'è bitcoin che quota 20.100 io posso dire ok fino a 19.500 e poi app invece fai fino a 21.500 impostami una griglia qua dividi in cinque ingressi sopra e sotto il bot a questo punto che cosa farà e investi per esempio ragazzi dico lo so 100 dollari dico per dire sopra e sotto a questo numero di griglie in questo caso cosa farà il bot venderà ogni volta che il bitcoin sale fino al limite massimo che è 21.500 e comprerà ogni volta che il bitcoin scende in questo caso cioè fa semplicemente ragazzi una strategia contrarian quindi guadagnerà solo e solo se il mercato ritorna indietro in pratica se il mercato ha un trend cioè se il mercato da qui a un certo punto sponda questa parte continua a salire in un trend del genere il bot a griglia perde sempre questo tipo di bot non può guadagnare se il mercato fa così e proprio fa zig zag per un tot di tempo il bot a griglia guadagna capite bene ragazzi che in alcuni mercati un bot a griglia contrarian perché contrarian questo tipo di bot adesso vediamo e vi spiego come invece si può creare un bot a griglia a favore di trend un bot a griglia contrarian ragazzi è utile solo e unicamente nelle barre di congestione e tra le altre cose devono essere anche barre di congestione che sono molto precise ad andare a prendervi tutti quelli che sono i livelli delle griglie e poi tornare indietro per farvi fare i gain ma poi soprattutto quando il mercato esce dalla congestione esce dalla fase di congestione dovete rigorosamente chiudere la griglia perché va assolutamente ripristinata va bene quello è questo il discorso ragazzi allora immaginiamo che qui il bitcoin sia in congestione fra questi due tipi di livelli va bene allora io qui ho attivato un bot a griglia il bot a griglia qualcosina l'ha fatta poco devo essere sincero perché la congestione in questo caso vedete ha girato è girata molto all'interno e poi con sbalzi che facevano annullavano diciamo la struttura interna e quindi vedete la vera la vera congestione si è sviluppata qui in mezzo tra dove i prezzi sono stati tanto tanto tempo poi però buttava fuori dalla griglia con questi slanci che ci sono stati e quindi rendeva praticamente inutile un bot a griglia proprio in queste fasi se io però allargo la struttura di congestione vedete la porto più in alto in questo caso probabilmente il mio bot a griglia ha preso pochissimi ingressi quindi non ha fatto praticamente gain ma poi cosa succede se brecca ed esce fuori da questa griglia qui è sl ragazzi stop loss e si chiudono i giochi la stessa cosa se va giù di qui sl stop loss quindi potete impostare un bot a griglia in questo caso su strumenti che sono in barra di congestione ma quando si esce dalla barra di congestione siccome c'è il pericolo che il mercato vada verso un trend dovete chiudere terminare la griglia e se avete guadagnato avete guadagnato se avete perso avete perso cioè in sostanza si lascia alla casualità anche questa cosa cioè si lascia alla casualità il concetto che voi possiate portare a casa del profitto allora questi sono i bot a griglia a contrarian ragazzi alcuni dicono sì ma poi impostando il parametro x più alto più stretto ragazzi non è così non cambia assolutamente niente perché il problema del bot a griglia standard quello che trovate su tutti gli exchange è che ragiona in contrarian al mercato non è un problema di quanto fissate i parametri il concetto dei problemi di strategia contrarian è sempre la stessa se il mercato non torna indietro cioè non va verso il trend che voi avete scelto cioè contrarian al contrario voi non potete fare gain quindi in ogni caso che sia un bot che sia la vostra strategia manuale perché potete anche optare per semplicemente andare in short qui long qui short qui long qui ok ragazzi queste sono strategie contrarian quindi potete farlo fare a un bot a griglia oppure potete farlo voi manualmente la stessa identica cosa il concetto è che se non arriva a quei livelli se non torna indietro se non va a favore della vostra strategia non fate gain poi la tipologia del parametro se più alto più stretto più numeri di griglie meno numeri di griglie vi cambia un po' l'esito dell'operazione ma in sostanza non cambia moltissimo la quantità di profitto o di stop loss che andate a maturare ragazzi perché se le griglie sono molto ampie probabilmente maturate più stop loss ma state più dentro al mercato se sono un pochettino più piccole maturate meno stop loss ma rischiate di venire buttati fuori molto facilmente quindi fate meno gain cioè tutto qui il discorso invece si può andare a creare un bot a griglia che si chiama bot a griglia a favore di trend quindi non esistono soltanto i bot a griglia contrarian come quelli che avete visto ma esistono anche quelli a favore di trend che che fanno ragazzi semplicemente quando vedono che un trend come questo per esempio di bitcoin è rialzista in questo caso va a comprare 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 quindi invece di vendere ogni volta che il mercato sale lui compra ragazzi compra 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 quindi ottiene un pezzo medio che ad esempio in questo caso sarebbe intorno ai 19.5 probabilmente di bitcoin dopo che ha finito il numero di acquisto delle griglie che voi avete indicato va in trailing stop e quindi cosa fa dice ok a un certo punto io vado in trailing stop e innalza 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 il livello di trailing stop fino a quando il mercato magari non reversa ci prende il nostro trailing stop e fine della strategia a griglia allora questa è un'altra strategia a griglia che si può utilizzare esiste un modo di automatizzarla su qualche exchange no del tutto però si può creare una specie di automazione giornaliera chiamiamola così che però una volta eseguita ragazzi va poi seguita manualmente con il trailing stop però su bit get per esempio il concetto del trailing stop è facilmente modificabile in quanto voi potete farlo dal grafico allora intanto vi faccio un esempio io questo bot a griglia lo costruirò in tempo reale con voi in questo momento sui future di bitcoin perché non mi interessa a lasciarlo lì per 1900 anni anche questa cosa ragazzi le strategie automatici automatiche non possono essere lasciate sempre così come se niente fosse quindi toglieteli dalla testa queste cose che voi avete un banco vattene del bottone fa tutto lui non si può fare dovete comunque e metterci un po lo sguardo però una cosa è stare su un grafico tutto il giorno una cosa è dargli un'occhiata per vedere insomma dieci minuti una sera e vedere di impostare un determinato livello diciamo che cambia abbastanza soprattutto perché questo modo funziona e vi fa portare a casa anche profitto se siete molto bravi allora io lo farò sui future però bit get in questa fase ragazzi ha anche trading a zero fee sullo spot quindi siccome questo bot che costruisco lo faccio solo unicamente utilizzando però determinati tipi di di ordini lo faccio sui future vi ricordo che comunque potete farlo identico anche sullo spot trading quindi sul mercato spot che in questo caso su bit get in questo momento quando sto registrando il video ragazzi a ottobre 2022 è a zero fee quindi zero fee sicuramente è meglio che avere le fee anche se su questo exchange sono molto basse diciamo anche più bassi di alcuni competitors però in linea di massima meglio non pagarle no allora questo è il grafico a cinque minuti di bitcoin quindi la mia griglia in questo caso di natura trend following sarà impostata per un'operazione di brevissimo cinque minuti grafico a cinque minuti significa che la mia operazione deve tener conto dell'andamento di bitcoin da qui a massimo qualche ora ragazzi una giornata quindi fine giornata chiuderò questa griglia però io sto guardando adesso il mercato e dico esiste la possibilità che il l'asset in questo caso sia lo strumento sia tra due livelli e che se sponda una di questi livelli può continuare il suo trend e quindi farmi fare gain sì allora questo è una logica che stiamo andando utilizzare allora se voi guardate bene ragazzi allora bitcoin in questo caso se vi metto per esempio il grafico a linea ragazzi allora eccolo qui allora si vede anche un po meglio guardate come il grafico di bitcoin in questo caso si sia completamente compresso fra questi livelli ora è stata fatta la stessa cosa qui ragazzi però io in questo momento posso dirvi che vedete è compresso tra questi due livelli cioè questa parte alta qui 20.180 e questa parte bassa 20.060 e qualcosa allora questa compressione ha dato il via una barra di congestione invece di dire ok io vado in a creare un grid bot fra questi livelli io dico io vado a crearmi una botta griglia però trend following non contrariene quindi dico se sponda uno di questi livelli il mercato prende un trend e fa du 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 e io voglio cavalcare questo trend se sponda questo livello qua il mercato va giù e io voglio cavalcare questo trend che va giù in questo caso sulla trend che va giù lo potete fare solo sullo future non si può fare short selling sul mercato spot ragazzi anche per questo io sto utilizzando il future in questo momento per farvi vedere in entrambe le situazioni ovviamente allora qui in questo caso l'impostazione della dei livelli della trading range io sono sempre dell'idea di tenerli un pochettino più distanti non prendo in considerazione questa fuoriuscita di bitcoin in questo caso perché è una fuoriuscita un po' anomala rispetto ai altri due massimi quindi questi due massimi secondo me sono più coerenti fermo restando che se volete potete anche impostarla qui però secondo me è un pochettino troppo alto quindi in questo caso io mi imposto 20.150 per questo livello quindi qui lo posso andare a scrivere ragazzi 20.150 come livello up mentre il livello basso mi tengo un pochettino più largo per evitare che vengo eseguito diciamo senza poi conferma essendo comunque un grafico a 5 minuti e mi metterò a 20.050 a questo punto io ho creato quelle che sono le mie due griglie passiamo all'attività di inserimento di quelli che sono gli ordini della griglia automatica allora io vado qui ragazzi nella impostazione trailing stop di bitcat trovate trigger voi dovete utilizzare quelli che sono in questo momento dei ordini che si chiamano ordini stop limit ordini stop market noi utilizzeremo un ordine che si chiama ordine stop market per creare la griglia e dico se il mercato arriva a 20.150 e quindi trigger price 20.150 e vai a inserirmi un ordine in questo caso lui ci dice a quale prezzo vuoi eseguire io gli dirò sempre market ragazzi un po per snellire voi potete anche inserire un prezzo preciso in questo tipo di sistema e di strategia vi sconsiglio di fare questo perché a volte poi il broker non vi esegue l'ordine quindi in questo caso ci accogliamo il rischio che non veniamo eseguiti proprio allo stesso l'identico prezzo comunque io gli dico se tocca questo livello e ci arriva tu vai a comprarmi una prima un primo ordine e comprimi 200 dollari usdt di a questo prezzo in trigger a mercato quindi inserito qua bam mi dà la conferma inserisco il mio primo ordine che trovate poi nella barra open orders in trigger order ragazzi ok questo è il primo ordine ciò significa che se bitcoin tocca questo livello io vado long questa volta non short quindi non vado reversal ma vado a favore di trend ma non è finita qui perché io dico ok ma se va a 22 vai a comprarmi altri 200 ecco il mio secondo ordine a griglia ragazzi vedete come sto creando la griglia la sto creando io non un bot la sto facendo io con lo stesso diciamo un meccanismo che fa un bot e qua gli dico ok una griglia a distanza di 50 dollari compra altri 200 dollari ho creato il terzo e poi a 20 mila e 3 comprami altri 200 dollari ho creato l'altra griglia a questo punto mi fermo perché ho detto che benissimo ho creato quattro livelli di ingresso long se bitcoin ha forza break a questo livello e mi va a favore di trend mi verranno eseguiti tutti questi ordini e poi una volta eseguiti se il mercato continua il suo trend io vado subito in profitto ragazzi va bene se invece è reversal devo andare in stop ma adesso lo vediamo ma se va a favore di profitto a favore di trend io vado subito in profitto posso poi proteggerlo successivamente con un trailing stop ma non è finita qui perché ragazzi perché un bot a griglia prevede anche l'altro lato cioè il lato short ragazzi che in questo caso non è uno una vendita non è una selva è proprio uno short quindi io mi posiziono al lato basso e faccio la stessa cosa che abbiamo fatto qui solo che invece di fare open long faccio open short e quindi sempre un trigger order quindi uno stop order mi vado a mettere qui e dico il primo livello è 20.050 è sempre lo stesso tipo di ordine e vado in sell short ok sell short ecco il primo livello di griglia e poi scendo in questo caso di 50 quindi secondo livello di griglia eccolo qui poi c'è il terzo livello di griglia che vado a mettere 19.950 stesso identica questione e forse mi esegue tra poco vediamo se entra qualcosa ragazzi che stiamo facendo in tempo reale quarto ordine 19.9 e vado con 200 dollari bam ok ennesima cosa allora quattro ordini long quattro ordini short questa è una griglia che è stata attivata qualora poi volete chiuderla alcuni motivi però devo andare poi manualmente e questo in questo viene un po' incontro l'exchange con alcune funzioni guardate qui ragazzi il cancel all qui se cliccate cancella all trigger orders tutto insieme mi cancella tutti gli ordini che ho inserito se invece li avete fatti questi ordini per diversi future qui vi dice ok su quale future allora io gli dico bitcoin per esempio vado giù e mi cancella solo quelli su bitcoin così se li avete messi anche su ethereum o bitcoin oppure su io soada oppure uniswap solana vi cancella solo quelli di che volete voi insomma ok ragazzi intanto ci stiamo quasi avvicinando vediamo se ci segue questo primo ordine vediamo che cosa succede così lo affrontiamo in tempo reale allora nel frattempo un bot griglia così costruito si definisce bot meccanico cioè un bot che da un certo punto di vista è manuale perché voi avete dovuto inserire gli ordini da un altro punto di vista gestirà lui le posizioni perché sono ordini condizionati quindi hanno il trigger avendo l'ordine trigger significa che verranno eseguiti ma automaticamente dall'exchange nel momento in cui viene toccato quel prezzo quindi da una parte avete messo la vostra manina nella definizione dei livelli dall'altra parte però gestisce tutto il l'exchange in questo caso ora alcuni accorgimenti questo tipo di bot intanto non sono consigli finanziari queste sono strategie di trading e quindi altamente speculative ragazzi dovete rigorosamente essere esperti di trading per poterli utilizzare ma è un buon inizio anche ragionare così c'è comunque il demo trading e il trading simulato subito che quindi potete utilizzare anche quello per un pochettino smanettare e non fare danni ragazzi va bene poi c'è la questione leva state attenti alla leva io qui non posso parlare di tutto se no diventa un video di 16 mila minuti ragazzi quindi dovete stare molto attenti anche la leva perché è fondamentale quindi ricordatevi queste cose però una volta che avviene un ordine e che viene e che entra un ordine questo tipo di strategia funziona e vi dà profitto se il mercato va a continuare il trend perché voi dovete sempre ricordarvi che ogni strategia segue uno scopo è un po' come giocare a risico a un gioco da tavola no io voglio fare quel tipo di operazione e imposto una strategia che mi rende quell'operazione fruttuosa se va in quel modo se poi non va in quel modo dovete prendere le dovute precauzioni e chiudere le operazioni ovviamente si possono anche inserire per esempio gli stop direttamente e quando voi fate l'ordine andando a cliccare proprio l'inserimento del del take profit e stop loss quindi qui vedete ragazzi ad esempio impostiamo una ennesima griglia che poi andrò a cancellare quindi 19 850 in short selling se io clicco qui mi fa impostare sia il take profit sia lo stop allora lo stop ragazzi potete impostarlo così take profit ve lo sconsiglio perché dovete poi manualmente impostare un trailing stop su strategie del genere perché se vanno a buon fine dovete seguire il trend quindi poi cosa fate? una volta che verranno eseguite BitGet vi mette l'ordine sul grafico potete scendere il grafico e seguirla in training stop ovviamente per seguire bene in training stop bisogna fare un'altra lezione però qui possiamo impostare lo stop loss price per esempio una tecnica è quella di impostare lo stop loss price esattamente a livello massimo della griglia inversa quindi qui abbiamo impostato il massimo prezzo long a 20.000 e 3 quindi io posso impostare lo stop loss price a 20.000 e 3 identico per tutti i livelli short e questo è giusto perché io vado a dire se mi preso il mio ordine è entrato il mio ordine short ma poi il mercato mi rimbalza contro mi va dall'altra parte devi chiudere perché quella che era l'intenzione che avevi all'inizio cioè il tuo obiettivo iniziale non viene rispettato dal mercato e in quel caso chiudi in stop perciò io vado a impostare per esempio questo tipo di ordine adesso lui mi dice anche di inserire un take profit mi ero dimenticato in questo caso ragazzi il take profit è per un'operazione short inseritolo molto lontano in maniera tale che la macchina ve lo chiede a prescindere però ovviamente non viene eseguito io metto 18.000 ok quindi essendo il take profit per operazioni short è al contrario quindi voi state scommettendo verso il basso dovete mettere un prezzo basso non per il take profit e andiamo in short in questo caso vedete mi fa inserire quella che è questo tipo di strategia e la trovo qui vedete ragazzi che sono impostate sia lo stop loss che il take profit ovviamente io posso anche impostare stop loss dopo che ho inserito la griglia andando qui per esempio e a dirgli ok impostami questo tipo di operazioni e in questo caso per esempio metterò 20.003 come stop loss ragazzi vedete e mi fa impostare anche solo lo stop diciamo invece quando faccio l'ordine devo impostare anche il take in questo caso posso anche poi sistemarla in questo modo vedete quindi questi ordini in griglia hanno già lo stop inserito io una volta che faccio una stessa cosa posso farla anche lato long quindi lato long dici dico ok qual è l'ultimo livello short in questo caso è 19.850 perché ho fatto la prova ma questo era diciamo fatto di prova in l'ordine giù era 19.9 quindi io qua vado per esempio su questo ordine long e gli dico ok mettimi lo stop loss a 19.9 quindi alla lo stesso tipo di stop al contrario dell'altra griglia una volta che voi avete impostato tutti questi livelli chiuso se l'avete il bot cosa succede succede che se andate in profitto dovete andare a guardare e poi seguire in trailing stop l'operazione questo tipo di bot è un bot meccanico cioè viene semi automatizzato costruito con metà automazione metà con la vostra mano funziona molto di più perché siete voi a guardare il mercato e ad avere una logica ben determinata per esempio questo bot costruito su un grafico a 5 minuti va comunque chiuso magari entro poche ore quindi o va a profitto non va a profitto io lo annullo perché dico è un grafico su 5 minuti deve andarci subito va bene allora faccio questo tipo di considerazione poi ci sono per esempio le vostre analisi che potete impostare e tante altre cose alcuni indicatori che potrete che potete impostare ad esempio che vi possono dare un filtro maggiore come per esempio l'RSI o la famosa ciclica chi la sa utilizzare ma questo tipo di logica cioè da andarlo a creare voi ragazzi un bot a griglia come vi serve a voi potete così con questi tipi di ordini andarli a creare intanto è stato eseguito un primo ordine ragazzi vi faccio vedere vediamo che succede è stato eseguito un ordine short e lo troviamo poi qui in position vedete in questo caso sta perdendo 20 centesimi ok quindi questo tipo di ordine è stato preso vedete tutto in automatico ora ci saranno anche gli altri ragazzi che saranno poi eseguiti se bitcoin continua alla fase di discesa cosa qual è anche il valore aggiunto di inserire una serie di griglie ragazzi che non vi esponete totalmente all'investimento con un solo ingresso quindi in questo caso per esempio io volevo fare 1800 dollari in short selling invece di farli tutti insieme li scagliono a diversi ingressi quindi anche qualora per esempio in questo momento bitcoin abbia toccato il livello ma poi non lo conferma torni indietro io sono entrato con un pezzettino non con tutta la posizione quindi anche il mio stop ragazzi sarà molto più piccolo rispetto all'intera posizione quindi questo tipo di logica scaglione vi consente di avere anche molta possibilità di movimento e quindi anche un po' di possibilità di errori è comunque il mindset giusto per non avere i paraocchi e seguire bot fantomatici con pseudo livelli inventati da backtest che poi non si verificano o seguire alla diciamo sempre con i paraocchi quello che fanno altri trader anche me compreso mi dico sempre non seguitemi senza sapere appunto che cosa state facendo quindi imparate a ragionare con queste strategie spero che vi sia piaciuto comunque questo video e questa impostazione questo tipo di bot si chiamano bot meccanici potete andarli ad approfondire mezzi umani diciamo un po robocop del dei poti di trading vi lascio il link in descrizione 20 dollari per i primi 50 che si vanno a registrare ragazzi i di bonus è il top e poi 10 per cento di sconto per la fine mi date anche una mano per continuare questo tipo di video va bene ciao a tutti e buon trading in bot di natura meccanica ciao ragazzi